In Italia ti puoi spiegare, è più bene, per dire che ho sempre stato nel mio paese, fino a 32 anni non mi sono mai mossa, ho sempre stato nì perché ho sempre avuto un lavoro qui. E allora, un po' anverso, un po' all'altro, perciò, ma era sempre lontano, sono arrivata a 32 anni, sempre con la scusa che con la mamma, e questo è sempre quella che sto a Clis, perché è il mio paese, mi fa una famiglia, ma la storia si è capovolta, è uguale come mia figlia, nel 90 al Veneto ero abbandonata, invece il vento ogni tanto si vede, ma in Australia era lontano, lo pensavo. E tutti i giorni, tutti i giorni arrivava la rete della mamma, con ancora un pacco, così che mi scriveva, quanto mai ti ho lasciato andare, queste erano le parole che la benediceva sempre, portami quelle bambine da far vedere, ti prego Anna, vieni, non aspettare che sono morta, ero sempre, mi entra quelli, entra la nostalgia che è passata, era terribile, perché la nostalgia ne passa tanta, perché in principio mi sono trovata sola, e allora ecco, il marito partiva tutta lì, mi ero sempre lì, mi ero ingannata, e allora, giusto che, come dico, sempre sta di bene, una e anche l'altro, e allora quella è stata importante, con la salute, e dopo anche l'ora, e la stava bene, insomma, ecco, ero abbastanza robusta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.